Avete criminalizzato per anni gli agricoltori e ora dovete assolutamente cambiare rotta. I coltivatori non sono contro l'ambiente, ma anzi sono decisivi per la tutela e lo sviluppo dei territori. Chi lavora la terra non può sopportare imposizioni burocratiche e folie ecologistiche che mettono a rischio la loro stessa sopravvivenza. In questi anni dovremmo decidere quale strategia agroalimentare l'Unione Europea dovrà portare avanti. Un modello fatto di legame con la tradizione oppure un futuro di prodotti omologati sintetici. L'Europa ha inoltre alimentato la concorrenza naturale. Le regole imposte ai produttori europei devono valere anche per chi vuole vendere all'interno dell'Unione. Serve reciprocità. Serve reciprocità nelle importazioni dai paesi terzi e trasparenza in etichetta. Bisogna far salire il budget per l'agricoltura, non certo ridurlo. Dobbiamo difendere le nostre tradizioni, la nostra cultura alimentare a partire dalla dieta mediterranea che incredibilmente è sotto attacco. Grazie.